Il Tg degli eventi, notizie e qualità, tutti gli eventi di qualifichiamo la scienza. La giornata è quello di sostenere la diversità, contribuendo a migliorare la cooperazione fra persone appartenenti a diverse realtà culturali. Alle ore 18.30, a Piazzale della Libertà Orte, il concerto per i Santi Martiri con la banda musicale della città, direttore Armando Fiabani, musiche di Giuseppe Verdi, Consuelo Velázquez, Agostin Lara e Jacob De Han. Alle 17.30, presso lo studio Carlo Grechi a Cerveteri, incontro sul tema Piero della Francesca, l'enigma della flagellazione. Il relatore è Giancarlo Iacomucci Littofino, studioso di figure e simboli esoterici e spirituali, presenti nel quadro di Piero della Francesca, che propone la soluzione dell'enigma del quadro in un'ottica affascinante e reale, di cui nessuno ha mai parlato in precedenza. Dalle 10.30 alle 15.30, Sovana, appuntamento per visitare l'antica città etrusca Suana, la più importante e ricca della zona, 2500 anni fa. Si potranno ammirare le tombe scolpite nelle pareti di tufo e nelle misteriose vie cave scavate a mano, che portavano dalla città dei vivi a quella dei morti. Costo 15 euro per bambini gratis, prenotazione necessaria. Gratuita per gli ospiti delle strutture aderenti a Maremme Motion. Dalle 9.30 ad Acqua Pendente, la sfilata dei pugnaloni, mosaici realizzati con fiori e foglie, e la premiazione dei primi sei classificati. È disponibile una navetta da Paesi Lemitrofi e dalla stazione di Orvieto per poter godere al meglio della festa. Dalle 10 alle 13, visita guidata al Museo del Fiore con i pugnaloni di Acqua Pendente, alla scoperta dei mosaici biodiversi, una mostra fotografica dei pugnaloni 2016 e un approfondimento sulla storia e le tecniche di realizzazione. In occasione della giornata internazionale dei musei, l'associazione Tessan Terretrusche di Viterbo organizza a Cellere una visita guidata intitolata I Passi dei Briganti, incontro alle 14 al Museo del Brigantaggio di Cellere. Il visitatore avrà la possibilità di ricostruire le storie che dalla seconda metà del XIX secolo sono sorte intorno a questo fenomeno. Si attraverseranno le vie del centro storico fino ad arrivare alla chiesa di Sant'Egidio. Il meteo. La giornata è caratterizzata da temporali schiarite, bel tempo alla sera, temperature comprese tra i 15 e i 21 gradi. I venti sono moderati e provenienti da nord-ovest con intensità compresa tra i 24 e i 30 km orari. Domani giornata caratterizzata da ampio solleggiamento con temperature massime di 25 gradi. Per questa edizione è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Il TG degli eventi, notizia e qualità, tutti gli eventi dei quali siamo con la scienza.